Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad da scaricare su iTunes. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show TV su YouTube. Siamo al Gran Premio Carnago, categoria professionista in ammiraglia Farnese Neri, direttore Luca Scinto e vice direttore Noè. La giusta la sella, la giusta la sella, non ti tu fischi. Ecco. Grazie a te, grazie a tutti voi. Viva Bike Show, viva Danilo Gioia. 1, 2, 3, 2, 1 Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bikeshowtv.com è il sito ufficiale del primo canale del grande ciclismo. Scrivi a info-bikeshowtv.com